A Popoli si potrà produrre energia grazie ad un progetto di una cooperativa di comunità che servirà a far risparmiare i cittadini ma anche a finanziare servizi sociali e non solo. È stato presentato questa mattina a Pescara nella sala figlia di Iorio della provincia l'eolico solidale. Dagli studi e dalle prime valutazioni, anche con una stima prudenziale, si tende a produrre oltre 10.000 kWh all'anno. Questo vuol dire soddisfare, per dare dei numeri grossomodo, oltre o quasi 5.000 famiglie, utenze familiari. Vuol dire anche, al netto di tutti i costi della gestione, ipotizzare, perché c'è sempre la variabile di mercato, tutto quello che ne comporta, ipotizzare una ricaduta sul territorio all'incirca di 250-300.000 euro l'anno per oltre 20-30 anni sul nostro territorio. Il partenariato del Comune di Popoli non si è fatto disattendere e la piccola cittadina in provincia di Pescara, come ha rimarcato il presidente della provincia, Ottavio De Martinis, si avvia a diventare un'isola energetica. Abbiamo prospettato un progetto di un impianto eolico da un megawatt, un impianto fotovoltaico a terra da un megawatt e un impianto fotovoltaico da fare sui tetti degli edifici soprattutto comunali per un totale di circa 1.400 megawatt. Quindi aggiungere a questi 6 megawatt dell'impianto in oggetto, del progetto in oggetto, più i 700 kilowatt delle due centrali idroelettriche di proprietà, farebbero di Popoli un paese che va in quella direzione che tutti si auspicano anche in Europa, ci hanno indicato questa strada e noi stiamo cercando di sposarla piena. Coniugare obiettivi, mettere insieme numeri che appartengono a più settori è la strategia giusta che fa pensare all'Europa con le sue direttive da mettere in campo sull'esigenza di diversificare le fonti che in qualche modo sollecita alle buone prassi. Un'opera che viene messa in campo da una comunità territoriale e dà una risposta ovviamente anche alle esigenze non solo delle famiglie in termini di abbattimento di costo di bolletta ma anche dei servizi sociali, parliamo di turismo sostenibile, di tutto quello che un po' raccoglie la sfida globale a cui la stessa Europa ci sta chiamando in questo momento.